Grazie Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Dai, va a guardare questo. Pasco. Davide, è più deciso. Non dite l'altro che è fuori, che non è mai fuori. Ma tu devi fare bene lì e l'hai tirati prima, non di scartare, Michele, ma tu l'ha fatto scartare quello, ma tirati lì. Ma lo stamattina devi scartare, ragazzi, che favore, stiamo succedendo. Arbitro, arbitro. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.